Ciao Dove stiamo andando? No, 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 regà! No, 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 no Non è gestibile! No, 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 no Non è gestibile come abitudini Non ho visto proprio niente Eh, già pure le fotografie te lo giuro no te lo giuro mia madre ora morire adesso non ci credo no non è possibile che non vedo una sega dimmi che hai un'arma ma scolo sopra di me non siete voi sono in aiuto bella però non cazzo le montagne stico pure me sto da cadasse sulle montagne vabbè quello c'ha una mira o la trappolina dai campioni regola fin da 20 euro io mi sono dato rega ma che che sta festeggiando la marza no rega non capisco il migo del ninja di pari gameplay bravissimo fiesta come se fanno che sta fiesta tra poco arrivo a regalo con calma ma come c'è gente no veramente non ho mai visto una roba del genere certo è tipo fortnite sulla playstation 2 che trovi ce l'ho davanti c'è gente nelle case pura guarda fazzo questa granata limpionica come limpionica no non c'è che palle mamma mia mi guardo un po' di junk 888 gameplay guarda l'abilità su cui c'ho tutte le armi fortissimo ma io hanno bettato quando lì c'è un motto di funda si la c'è il power capire lui che se c'era morto tu allora è fondato oh aiuto c'è uno qui che fa split a manè esatto ecco c'è uno davanti da parte ma ma questo è il power per canterare questo oh no di andare su instagram che gli ho inviato il video poi ti fa vedere il problema del memo di dick è morto 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 che non ho capito faccio raga scusate mi ha appena fatto raga si ho stretto il culo no raga mi si è bloccato eh resting peppers sei rip cosa? no ragazzi mi ha preso in volo raga io mi sono ritrovato una squad intera mentre cercavo delle armi si è bloccato si è frizzato si era frizzato quello eh bel gioco ma veramente interesting game si è bloccato tipo pianissimo si è bloccato ci godo mi stava per uccidere non arriverei mai in tempo no no sono tre ma come si chiama questo ragazzo che me l'ha inviato eh mi sono scusato il nome ah perchè io non ce l'ho l'ultima cosa che mi hanno scritto è prendi il cane no è uno che sta suonando ahahah ma se riscrive non lo dico eh ma io non si può vivere così cosa fa questa mitraglietta bravini questi ragazzi eh ma la mitraglietta scioglie è stato bello sembra tipo i combattimenti negli anime che arriva una alla volta ti sconfiggerò ti sconfiggerò no ma tipo è morto eh tocca a me e vai no ma il nero quello del basket l'ha saltato tipo sai quella di nani è arrivato così con gli occhi trigger morto oddio raga non mi chiedete come so sopravvissuto prima mi sono ritrovato con con un team attaccato al muro cioè ieri ero da una parte e loro ero dall'altra parte del muro ed entrambi sappiamo dove eravamo ah ma te sei uno di quattro ah mi si è incastrato il mantello in un modo brutto ok c'eravamo il mantello incastrato non stavo triggerando vedi ma un po' spero oh my wa mo shi mo shi mo shi no nani però bisogna devi fare così oh my wa mo shi si deve essere capito tipo che lo guardi gli dici tutta una super cazzo e poi con l'osigene fa oh my wa no shi deru ahaha nani ah ah quel fischi la fischiatrice nani la fischiatrice becchio ah tiro dritto eh tira tira quanto le vuole tiri tiri guarda che hai le bet on the shoulder quindi sempre ah ma io oddio ah bene ah bene per un frame da me è ritornato indietro a a pleasant park what the fuck ma what the fuck ma che cazzo sta succedendo hai rotto il gioco volevi vedere cosa sarebbe successo ecco ma è ambiguo eh è ambiguissimo scusa voglio vedere quanto mi sta mi sta togliendo questo punto sono curioso di sapere se vedi uscire del fumo dal computer oh oh che cazzo è successo però si ma questo non mi si è bloccato a me il gioco ah io picconavo ma non andava ragazzi c'ho intrigante video game ho dodici giga di fortuna chi è mollo o delu chi è è delu per forza l'handicappato di nuovo no ragazzi io mi sa che veramente c'è devo alt f4are se no qua mi prende fuoco tutto eh ti esplodono i ram eh i ram costano eh tanto si mo se cambia arpc si ha fatto scoppiare si lo finiamo di distrutto cosa vuoi cosa vuoi la fbi è in casa la fbi è in casa scusate stiamo pisciando forte stiamo per andare su farci si perché il gioco ha rotto si si blocca andiamo a fare fa bg ci l'ho giocato tipo a due fps eh perché devi fare una partita a due e riavviare se io c'ho il time warp mi torno mi vai indietro non posso giocare e spammare i game anche perché muoio subito vedendo le partite messe forte e dureranno tipo cinque minuti ma che come ho riscopato ho riscopato ho riscopato di meno si ho riscopato qualcosa di meno tipo cazzo così tanto mezzo secondo fai tre tre secondi dai stiamo a legarlo se paghiamo l'ho perso un po' di fuori vedemina tempo di sdrasciare la mutante come si fa il jeans hai ucciso ninja mi dimalta uno eh l'ho sentito sotto lo sai eh ma non riesco a capire baix ecco dove sia situato che arrucante le strutture se quello fosse stato intelligente comunque la ti metteva 4 muri e trappole ho provato a farti il pezzo è quello che stavo dicendo io mi sono murato subito come l'ho sentito se ti muovi con due trappole se c'è il soffitto sopra si si ma è una puttanata allucinante quella cosa me l'ho fatta io un tipo ieri ma mi è successo me l'ha messa sotto e si è triggerata sopra io quando guardo la chat e mi rendo conto che la chat quella di forno e mi rendo conto di vedere un nome per più di tre volte vuol dire che sarà quello che poi ti ammazzerà quindi hai la pressione addosso di Twitch hai un nome strano eccolo quello che uscita adesso è player 315 allora ok e il problema è che sei in gruppo è quella la cosa eh ma io sto tre volte anzi con questa 4 che vedo solamente lui in kit quindi quando è così vuol dire che io morirò da lui ninja wannabe oh che bello Twitch nel nome quali che si mettono Twitch nel nome sono delusional mamma mia sono tipo i dj nel 2012 tutti i dj tutti i dj tutti i mc o dj che poi alla fine tu metti quella cosa non per prendere follower ma lo fanno poco eh ma lo sai cosa succede perché poi ti prendi dislike tu Twitch non puoi mettere dislike no ma la gente diviene afflammare infatti la gente non lo capisce che è inutile fare una cosa del genere che la gente diviene afflammare brutto giusto mi ammazzo questo gli vado sul Twitch e gli dico get cancer di onestà proprio ma se lo fa anche il Twitch ninja ne ha bisogno e dopo che ha perso più di 100.000 sub direi aspetta che esca di nuovo una cosa con il vabbè ma al mo' tempo che esce dalla piscina ad oro è un attimo dispiaciuto vabbè in caso di dovesse ammazzar questo un attimo fai un raid scrivergli due due simpatie eh non vedo più finita buono questa macchinetta è una macchina sì ma comunque questa cazzo in mitraglietta stai facendo il pane è una cosa è una cosa è lui è è lui sto sicuro era lui ho un atto con la mitraglietta sapevo che era lui me li mangio tutti a questi ti giuro questa qui è l'arma del tracking cioè se tu sei bravo a mirare fa il disagio con quest'arma cazzo ma è clamoroso basta che stai a sparare un po' al burro eh ma devi sapere sparare no ma non è così difficile perché basta che ti impari a tracciare la velocità del player avversario eh ma niente hai fatto titolo della streaming di power domani sarà giochiamo a fortnite con 16 giga di ram domani compro 16 giga di più per giocare infatti il terzo pc con solo per le ram fa allora c'è un team lì è un team lì vedi uno ha sempre detto ma che cazzo serve avere 64 giga di ram è inutile vedi invece vedi per fortnite servivo ah l'ho appena detto io poi è vero? si però non ti ho sentito l'ho detto ma che cazzo ci devi fare con la ram con 16 giga abbastano e avanzano ci invece c'è una partita forse una partita forse perché poi ti devi sentire assolutamente il condorello sorpresina prima oh di no best arma in the world ma mi ha lagato a me o sono stati tre colpi quelli ma non c'è stata lagata oh lui ha fitta vabbè matrix un danno importante eh questo colpa era opro point un delfino delfinch abbandonato è lo scontro titanico buongiorno sto presino a baby il mio cazzo è condorello manca a te fatti post la ragazza aspetta io c'ero sotto vedo a freeze tipo ogni tanto mi si ferma lol ma questo cazzo sei glamour ah un altro switch ma rivedere chi cazzo è che comanda a questi due spettatori ma vado sempre per la testa capito quindi faccio un danno spropositato che cosa c'è qua un razzo dorato però vorrei un po migliore vorrei un po migliore però che posso giocare anche senza pompa cioè non è un problema il pompa il problema è che vorrei avere un tac se prendo un tac godo però tutti pampo ma che cazzo è se avessi trovato un tac flup col pampo ha fatto più kill di fazzi in otto messi monca est un tac grigione lì 0 monca est perché poi tu sai quando guardi questi giochi ti viene da dire capito no però qua doveva fa così invece quando guardi lui non puoi dire un cazzo capito per quello è bene che la direi un po che la direi un po ma porco tu è tutto scato rimasta ancora lì nel momento di atterrare quest'altro 37 un 22 57 un altro 20 mi sa fordi for the 21 bomb mente la questa pedana ti si. come ti leggo Lo sai che secondo me è ancora dietro l'albero A destra Mamma mia proprio Lo sapevo C'è anche un colp Oh se Mi sta allargando il cervello Che sto capendo un cazzo Cosa stanno pensando Il mio cazzo è un po' dolerno La fine Eh vabbè Ma va così Ma va così raga A volte succede Ma come ho creato Capito perché sto gioco così è bello Tu lo prendi Lasci la tastiera Così è proprio clean Abbiamo fatto 26 kill di team Buono Comunque Vabbè 26 bomb game Ci sta A presto A presto A presto A presto A presto A presto A presto